Continua senza sosta l'impegno della prefettura di Reggio Calabria nel contrasto al fenomeno delle cosiddette vacche sacre. Questa volta il prefetto Michele Di Bari ha rivolto l'attenzione al versante ionico aspromontano, anch'esso afflitto dalla presenza dei bovini vaganti, anche se in misura minore rispetto ai territori della piana di Gioia Tauro. Il prefetto, insieme al presidente del Parco Nazionale Giuseppe Bombino e dai rappresentanti delle forze dell'ordine, ha effettuato un sopralluogo ricognitivo con i comprensori di Africo, Samo, Sant'Agata del Bianco e Caraffa del Bianco finalizzato alla pianificazione di specifici servizi in continuità con quelli da più settimane già in corso che saranno attuati in queste zone per la tutela del territorio e l'affermazione della legalità. Il sopralluogo ricognitivo ha permesso di accertare la presenza di bovini vaganti e di dimensionare al meglio le azioni da mettere in campo nell'ambito della più ampia strategia di contrasto definita dalla stessa prefettura in seno al tavolo istituzionale promosso dal prefetto Michele Di Bari e coordinata sul campo dal questore Raffaele Grassi. L'azione condotta dalla task force in queste settimane si è rivelata particolarmente efficace e rappresenta una risposta ad un pluridecennale problema particolarmente avvertito dalla cittadinanza. Nella prova la situazione di Bruno Bonfà, imprenditore calabrese che ormai da moltissimo tempo subisce l'invasione di questi animali. Diversi anni fa in effetti Bonfà aveva inviato sollecitazioni e lettere alle maggiori istituzioni proprio per risolvere definitivamente tale questione, visto che le vacche, pascolando abissivamente, provocano ingenti danni ai suoi impianti, alle culture e ai prodotti. Nulla di fatto però, visto che qualche giorno fa il noto imprenditore calabrese è tornato alla ribalta, ma stavolta sulle reti nazionali. È stato ospite infatti di giletti hanno nell'arena per denunciare i fatti subiti. Una situazione non più tollerabile e fortemente incresciosa, in cui, dietro ai bovini, è facile intravedere il controllo territoriale e intimidatorio delle cosche del comprensorio. Abbiamo 5-6 branche qua, non è che un branco solo. E ogni branco quant'è? Ogni branco in formato 50, 80, 90, 100. Siamo circondati. Siamo nella piana di Gioia Tauro a Città Nova e quelle che vedete qui le chiamano vacche sacre. Sono mandri di animali inselvaticiti che da 40 anni distruggono raccolti e causano incidenti stradali. Vacche sacre. Si possono toccare? Allora, il problema è questo, guarda. Città Nova ha avuto una brutta faida negli anni 70 e 80. Una famiglia che era in faida con un'altra, aveva un paio di capi di bestiante. Poi, o morti, o carcerati, o latetanti, queste mucche sono rimaste allo stato bravo. Vengono definite sacre perché ognuno, dice sai, vuol dire che appartengono a loro, quindi non... È meglio evitare. È meglio lasciare stare. Il problema quindi non sono gli animali, ma i loro proprietari. Cosa simboleggiano queste lacche? Simboleggiano soprattutto un concetto di violazione delle regole e della proprietà. È un modo di controllare? È un modo di controllare il territorio. Di dire noi ci siamo? Questi animali sono nostri e questo territorio è il nostro. E chi viola queste regole può incorrere in ripercussioni imponenti. Allora, Bruno, io intanto la ringrazio perché chi mette la faccia dimostra avere grande coraggio. Lei è sottoscorta. Sottoscorta perché? Perché ha alzato la testa. È sottoscorta perché mi sono ribellato. Io ritornavo a Pasqua e dopo l'omicidio, dopo incendi, furti, scassi e il progetto di mettermi una bomba e farmi saltare con tutta la macchina blindata, un conflitto a fuoco a luna di notte in azienda, danneggiamenti e ostilità su cui potrei scrivere un libro intero. Immaginatevi uno che Lotta annunzia da vent'anni, adesso ha la scorta perché rischia troppo, perché ha alzato il tiro, perché lui dice io non ce la faccio più. Ho 70 ettari e lei potrebbe dare lavoro a più di 50. 50-60 persone. Lui ho assunti anche negli anni passati, fino a 50 persone e anche di più potrei dare stagionalmente. Quindi lei capisce il dramma delle sorelle Napoli? Certo che lo capisco, io quando l'ho saputo ho fatto un atto di solidarietà, una telefonata, seppure nient'altro, insomma perché è una situazione insostenibile, la capisco perfettamente e l'ho vista molto simile alla mia e quindi era veramente, sarebbe stato una vigliaccheria rimanere in silenzio. Lei l'ultimo atto l'ha avuto a Pasqua, immaginatevi uno pianta tutti i bergamotti, che il bergamotto è un po' il simbolo della Calabria, no? Siamo la prima azienda esistente in Calabria e in Italia con un'estensione di 10 ettari ad oliveto consociato e purtroppo alcune forze investigative hanno rappresentato. Aspetti, che cosa le hanno fatto? Poi arriviamo all'altra parte, che è ancora peggiore. Andiamo alla parte dove le distruggono tutte le piante. Mi hanno distrutto per due volte tutte le colture di bergamotto e 10 ettari di oliveto a duplice attitudine della mezza di olio in due notti. Cosa ne hanno fatto? Hanno introdotto le vacche sacre e queste sono di una capacità distruttiva, in una notte sono capaci di distruggere anche 15-20 ettari, così come le hanno distrutte a me.